la consiglina inquadra martin e che più un ricco il popolo del mondo siamo con del frattempo e aria ok è bellissima vabbè ehm volevamo che volevamo fa? si sceglie volevamo ma perchè mi ha bisogno di? guardate la faccia di mattina prima mattina senza trucca e io! ciao 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 chiudia? nooo nooo